Dylan Dog 431, nulla è per sempre. Wabalabadabdab e bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica fumetti e nella rubrica Dylan Dog. Parliamo del 431, continuiamo a parlare della serie regolare. Qualche giorno fa ho parlato appunto del numero bis, del 430 bis, che come l'anno scorso mi è piaciuto molto di più del numero 430. Devo dire che questo 431 per certi versi lo ritengo molto molto simile al 430 per tematiche nel modo più positivo possibile, assolutamente. E anche questo mese, o comunque anche dopo altri 15 giorni dal 430 bis, sono rimasto piacevolmente sorpreso. A parte quindi lo scivolone, chiamiamolo così, con tutto il rispetto del 430 per mio gusto personale, devo dire che mi sta piacendo un po' come sta andando Dylan in questi ultimi tempi. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi prega, di condividere il video con tutte le persone che conoscono un fantasma e di commentare qui sotto con quello che viene parso di questo numero, di questo video. Seguitemi anche sugli altri miei social, tra cui Instagram e Twitch, per vedere quello che faccio oltre a YouTube. C'è un fil rouge che collega il 430 bis al 431, che è appunto la presenza di un fantasma, anche se nel numero scorso poi il fantasma si è rivelato, oltre a essere l'interesse amoroso in un certo senso di Dylan Dogg, che è la cliente stessa di Dylan Dogg, o meglio, scusate, i clienti erano quelli del vicinato, però diciamo, era molto legata a Dylan Dogg. Qua invece il fantasma è legato alla protagonista di questo numero, che non è Dylan, ma è questa ragazza molto timida. Lo stereotipo della ragazza timida, volenterosa, il classico angelo del focolare, che si occupa della madre, non esce la sera, ha avuto dei ragazzi ma non andavano bene alla madre e quindi non ha mai concluso nulla. Una vita passata da contentare le aspettative della famiglia e mai i propri desideri. La cosa fantastica è che tutto questo si evince da pochissime pagine, quindi grande lavoro di scrittura di Marzano, che è al testo, e già che ci siamo faccio anche i complimenti a Freghieri, che invece è ai disegni, mi sono piaciuti molto anche i disegni, molto classici di Laniati, stile anni 80-90, li ho trovati perfetti, anche la griglia, sto notando ora che sto risfogliando, è molto classica, ciò nonostante il numero non sente assolutamente... non si sente il peso della viecchiaia, non si sente di avere tra le mani un numero vecchio solo perché ha uno stile classico, solo perché ha una griglia classica, anzi, il numero è davvero moderno, si legge tranquillamente. La narrazione è assolutamente fruibile da un neofita che prende in mano Dylan Dogg in edicola e se lo può gustare. È questo che dovrebbe fare un Dylan Dogg appunto per attirare il nuovo pubblico. Dylan invece è un po' impegnato a farsi i fatti suoi con La Bella del Mese, ecco, forse l'unica cosa un po' diversa dal solito, che potrebbe non piacere, ma in realtà io l'ho trovata anche un guizzo di aria fresca, un guizzo di ventata nuova, che la protagonista di questo numero non è la persona di cui si invaghisce Dylan, di cui si innamora Dylan. Dylan diciamo che sta cercando di fare il filo a una sua vecchia fiamma, fondamentalmente, che comunque sarà legata alla storia principale, ma che non è la protagonista. Un, diciamo, un risvolto in più nell'intreccio narrativo che dà a questo numero un valore aggiunto. Ma non è l'unico risvolto che dà un valore aggiunto a questa storia, c'è un altro valore aggiunto che mette, diciamo, zizzania in questa storia, ci fa depistare un pochino per non renderla una storia troppo classica, troppo banale, ma super frizzante, super nuova, ma ovviamente se non l'avete ancora letto non ve lo sto a dire, però è passato anche ormai del tempo, quindi penso di poter fare lo spoiler. L'altro tassello è appunto la donna in nero, la donna col cappello a falde larghe, che c'è anche nella fantastica copertina, che è appare quasi ovvio che sia appunto questa ragazza timida, anche perché vediamo che questa ragazza timida, quando inizia a frequentare questo spasimante incontrato al cemitero, inizia un pochino a cambiare, inizia un pochino a ribellarsi, a ribellarsi alle sue colleghe bullette, tutte fighe che pensano di essere loro le uniche a detenere il diritto di divertirsi, e considerano questa ragazza una povera sfigata. Mi piace vedere la scena in cui si ribella, in cui addirittura gli dà uno schiaffo a questa apere gina delle sue colleghe, mi piace vedere come si sia ribellata proprio grazie all'amore che ha conosciuto e che gli sta dando forza. Quindi è facile pensare che potesse essere appunto un risvolto negativo di questa storia d'amore, il fatto che questo sconosciuto che l'ha approcciata al cimitero l'abbia fatta cambiare al punto da diventare lei stessa la killer, o peggio, che la stia usando, che stia usando questa povera timida ragazza desiderosa di amore per arrivare ai suoi scopi vendicativi, e invece no, nulla di tutto questo, e questa cosa l'ho apprezzata davvero tanto. L'amore tra questa ragazza e quello che poi si è rivelato essere un fantasma è sincero, è stato sincero, è stato puro, è stato anche fisico, carnale, al punto che la madre della protagonista, anch'essa un fantasma in un certo senso, o quantomeno una proiezione mentale della protagonista che interagiva ancora con la mamma, col fantasma della madre inteso in senso lato, che ancora la re d'Arguiva le diceva cosa era giusto, cosa era sbagliato, finalmente riesce a ribellarsi, diciamo, a questa prigionia mentale, il fantasma della madre svanisce e lei finalmente riesce a vivere una vita felice con questo suo amante, che però appunto ha una condizione particolare, ovvero la condizione di fantasma, e piano piano sente che questa sua non vita gli sta sgretolando, gli sta andando via dalle mani proprio perché, come si sa, un fantasma è su questa terra perché ha delle faccende in sospeso, queste faccende in sospeso stanno per essere risolte appunto dalla dama in nero, che non è la dama in nero dei primi numeri di D-Landog, ma questa ragazza, questa killer poi, che si rivelerà, una serial killer col cappello a falde larghe, che sta, diciamo, eliminando tutto ciò che lo tiene legato a questa terra. Ma per un curioso caso del destino le due cose non sono legate tra di loro. Il fatto che il fantasma abbia conosciuto questa povera ragazza timida e che questa serial killer abbia iniziato proprio adesso a far fuori tutti gli assassini di questo fantasma non sono legati, sono, diciamo, una delle pochissime coincidenze che il narratore si prende, diciamo, la licenza poetica di mettere in questa storia, a livello di tempismo, quantomeno. Però, come dicevo, anche la bella del mese a cui è legato D-Landog non è un personaggio di contorno, non è estraneo ai fatti, anche lei in un certo senso era coinvolta nell'assassinio di questo fantasma. Però lei ha cercato anzi di salvare questo povero ragazzo che stava annegando nella piscina di dei rampolli giovinastri ricconi che stavano abusando di un livello di bullismo che non dovrebbe essere mai concepito. E proprio anche da qui si poteva evincere che appunto la serial killer non era stata mandata dal fantasma proprio perché il fantasma si ricorda che la ragazza di D-Land aveva aiutato, aveva cercato di salvarlo, ma è stata mandata proprio appunto dai genitori di uno di questi rampolli proprio per insabbiare tutta la faccenda, dato che stava ritornando a galla. Perdonate il gioco di parole. Stava ritornando a galla questo ricatto da parte di uno di questi ragazzetti. E quindi per insabbiare il tutto, per evitare un possibile ricatto, il padre di uno di questi rampolli si è messo a fare piazza pulita dei testimoni, compresa la povera fidanzata di D-Landog. Si scopre appunto che la killer con il cappello a falde larghe è in realtà appunto una serial killer che non ha neanche una battuta, è semplicemente un personaggio di contorno che è servito a depistarci per farci sembrare la storia super legata, ma anche allo stesso tempo molto classica. Invece con questa virata, con questo plot twist all'improvviso, scopriamo che la storia è andata diversamente. La storia mi è piaciuta fino alla fine, devo dire che mi è dispiaciuto un pochino che si apre con un finale aperto dove c'è D-Land che fondamentalmente indaga per cercare di far ritrovare a questa povera ragazza il suo tanto amato fantasma, ma finisce così. È chiaro che non era quello il fulcro della storia ed è anche bello che finisca con un D-Landog che si mette al lavoro, con un cliffhanger del genere. Però questa sarebbe stata un'ottima occasione per fare due storie, come hanno fatto l'anno scorso che hanno unito due storie che non erano unite tra di loro, ma il curatore è riuscito in qualche modo a far sì che una storia fosse il proseguo dell'altra. Qui sarebbe stato bello, in qualche modo, commissionare due storie separate in una piccolissima miniserie anche per vedere un pochino come potrebbe andare un esperimento di miniserie, magari estivo. Però ecco, non c'è stato, o meglio, non c'è stato, non lo so. Vedremo il mese prossimo cosa ci aspetta. Il mese prossimo ci sarà Io ti proteggerò, ma credo, dalla sinossi che ho letto, che il tema sarà totalmente diverso, quindi non sarà assolutamente il proseguo di questa storia. Però, ecco, sarebbe stato carino vedere, appunto, due numeri che si possono leggere in modo indipendente, ma che uniti avrebbero formato una piccola continuity estiva. Sarebbe stato piacevole, ecco, quantomeno. Il numero è promossissimo, abbiamo un graucio presente, molto dosato, come può piacere alla maggior parte delle persone. Diciamo che un graucio presente, ma dosato, accontenta un po' tutti. I disegni sono davvero da mozzare il fiato. Abbiamo un block che è un ritratto e anche un Dylan Dogg che non è mai stato disegnato meglio. Ci sono dei primi piani di Dylan Dogg che davvero ti fanno sentire in difetto in quanto uomo. È disegnato davvero bene, è davvero un bel Dylan Dogg. Forse un po' troppo poco magro a livello di mascella, dato che comunque Dylan Dogg incarna un pochino Rupert Everett dei tempi, però davvero un Dylan Dogg bellissimo come dovrebbe essere. Quindi complimenti anche a Fregheri per le tavole, che sono davvero stupende. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero, se vi è piaciuto o se non vi è piaciuto. Scrivete un po' la vostra, litighiamo un pochino. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine. Con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video.